Umberto Eco disse, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino Cisabele, quando Renzo sposa Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Benvenuti, siamo all'ingresso della Biblioteca del Liceo Classico, Quinto Razio Flacco, di Potenza. Alle mie spalle vi è un aforisma medievale che cita Claustrum sine armario, quasi castrum sine armamentario. Che tradotto, un monastero senza l'armadio, cioè senza la biblioteca, è simile ad un accampamento militare privo di armeria. Ma ora è il momento di entrare nella biblioteca. Seguiteci. Benvenuti nella nostra biblioteca, grande risorsa culturale di questo liceo. Esso infatti è il luogo destinato proprio agli approfondimenti e alle esigenze quindi culturali dei ragazzi di questa scuola. E non solo, perché infatti questa biblioteca offre l'opportunità non solo agli alunni, ma anche agli utenti esterni. La nostra biblioteca è prestigiosa e al tempo stesso ampia. Si suddivide in più aree. Una delle quali è proprio questa, che è la sala di consultazione. Dal termine stesso, appunto, consultazione, si evince il fine di quest'area. E cioè quella di poter usufruire di questi testi solo per la consultazione e per gli approfondimenti. Sono testi collocati in scaffali aperti proprio perché l'utente può prenderlo e poi riporlo individualmente, personalmente, certo sempre sotto il vigile controllo della bibliotecaria. Questa biblioteca, cioè quest'area della biblioteca, appunto, ha dei testi che sono principalmente delle enciclopedie. Abbiamo l'enciclopedia Treccani dal 1929, ma ancora in aggiornamento. Abbiamo delle enciclopedie tematiche, quale quella virgiliana, dantesca, è anche una tematica sui romani, gli antichi romani, gli antichi greci e poi altri. È un luogo dove, appunto, i ragazzi possono accedervi durante tutto il periodo delle lezioni, fino alle 14. Ovviamente, sempre sotto previo permesso dei loro docenti. A testimonianza, quindi, della loro presenza in quest'area, abbiamo infatti un registro sul quale gli alunni appongono la loro firma. Viene offerta anche l'opportunità di potersi semplicemente rilassare in questo salottino, nel rispetto e nel silenzio nei confronti degli altri, perché, come giustamente viene scritto ed evidenziato, questo è un luogo in cui si abbassa la propria voce e si alza, invece, quella della propria mente. Ci troviamo adesso nel deposito, che è il luogo custode proprio del grande patrimonio librario di questo liceo. Qui, infatti, abbiamo circa 25.000 testi, ancora però in crescita, grazie ad ulteriori donazioni e soprattutto anche grazie a recenti acquisti. È un deposito che nel tempo, appunto, ha ricevuto diverse donazioni. Ecco perché si articola in più fondi. Infatti non ha una distinzione di cui dei testi, cioè per tematiche, per argomenti, perché sono stati catalogati lentamente e nel corso del tempo, a secondo anche delle donazioni. Abbiamo una grande donazione che è il fondo, appunto, tramice, ex preside di questo liceo. Abbiamo anche il fondo Tomasillo, appunto, anche lui professore, ex professore di questo liceo. E non ultimo, come, diciamo, importanza, il fondo Brienza, che ci è stato fornito dal dottor Urciuoli, medico pediatra. Sono circa 200 volumi sulla grande guerra. Poi abbiamo anche un altro fondo, che è il fondo Appella, che è uno dei tre fratelli Appella che hanno frequentato questo liceo, particolare non solo per l'importanza culturale, ma anche per la rilegatura, molto bella, che, devo dire, i ragazzi apprezzano sempre molto. Il nostro deposito è anche uno scrigno di sorprese. Ultimamente, infatti, una nostra studentessa, Lucia Tirone, molto interessata alla poesia, ha preso in prestito un testo del fondo Tomasillo, per l'appunto, di letteratura francese, all'interno del quale ha trovato una lettera d'amore. Gentilissima signorina, sarebbe meglio che lei non mi seccasse più, perché durante le vacanze non mi è stata fedele, per il fatto che è andata a ballare nella villa, stringendosi con altri ragazzi e dimenticando me. Questo è il motivo perché quando venni non mi avvicinai per salutarla. Non mi stimerà un mascalzone, perché ho tutte le mie ragioni nel dirle ciò. Quindi lei cercherà di dimenticarmi, così come farò anch'io, e per dimenticarci a vicenda sarebbe meglio che non ci guardassimo per strada. Non pianga e non si affligga per queste cose che le ho detto. Non è detto che per lei tutto è finito. Un giorno potrà trovare sempre uno meglio di me. La colpa di questo distacco è sua, già che si ricorda di me solamente quando sono a potenza. Se ha ancora qualcosa da dire su queste cose, potrà benissimo mandarmele a dire. Quindi addio per sempre. Una bellissima lettera d'amore che sta a testimoniare quanto i libri non sono solo custodi di cultura e di sapere, ma anche di emozioni. E io, convinta di questo, sempre stata convinta di questo, ho voluto riportare sul muro una scritta della biblioteca, la prima biblioteca del mondo che si trova a Tebe, dove dice appunto che la biblioteca è la medicina per l'anima. Vi conduciamo ora in un luogo misterioso, non dico alla stregua di Hortz, nella biblioteca di Harry Potter, ma sicuramente è un luogo ricco di fascino, ricco di cultura antica e sempre piena di sorprese. Ci troviamo infatti nel fondo antico, luogo di custodia di testi preziosissimi, tra cinquecentine e seicentine. Ecco, qui ci troviamo nello scrigno del liceo classico, è un cuore antico, ma ancora pulsante, di questa scuola. Questa scuola ha duecento anni e più di storia, perché il decreto istitutivo è di età napoleonica, quindi nel 1807 fu decisa l'istituzione, nel 1809 fu realizzata l'istituzione di questo liceo, che ha quindi più di duecento anni di storia, ma al suo interno conserva documenti che hanno una storia ancora più lunga. E in effetti qui, nella zona della biblioteca dove si conservano i libri antichi e l'archivio storico, troviamo documenti che risalgono al rinascimento lucano. Sono di origine, in realtà, da tutta Italia e anche d'oltrealpe, perché sono libri stampa manuale. Il più antico è un incunabolo del 1499 di materia giuridica. E poi a seguire c'è una notevole collezione di libri cinquesecenteschi. In particolare, le Cinquecentine rivelano la storia proprio della trasmissione di questo patrimonio al liceo. Il liceo, come dicevamo, non esisteva nel Cinquecento. Non era ancora concepita una scuola così e tanto più non era stata istituita. Il liceo ha questo grande tesoro inestimabile di essere l'erede di questi uomini colti, rinascimentali, lucani. In particolare, ne veniamo a conoscenza proprio attraverso lo studio delle annotazioni manoscritte che compaiono su questo fondo antico. Due sono particolarmente interessanti. Sulle marche tipografiche di libri del Cinquecento di materia per lo più filosofica e prevalentemente aristotelica compare questa sigla PPP, una P ripetuta tre volte e poi sotto la marca tipografica un nome, Fidelissimus. Ecco, probabilmente, il nome di Accademia del possessore di questi libri. Il fondo complessivamente in realtà custodisce circa duemila libri antichi, ma un po' meno sono le cinquecentine, le seicentine, che sono sempre naturalmente più preziose dei libri del Settecento e dell'Ottocento, che sono naturalmente meno rari, perché nel frattempo la stampa si era evoluta e quindi la loro preziosità è legata soprattutto alla rarità, come per tutti gli altri oggetti antichi. Ecco, dicevo, l'altro annotatore si segna con un'altra sigla, D-B-I-C, è probabilmente uno Iure Consulto, I-C, e il nome, attraverso la documentazione relativa alla storia lucana del Cinquecento, è probabilmente quello di Donato Bruno, quindi Donato Bruno, giurista venusino. All'interno della collezione poi c'è una Cinquecentina Oraziana, tutti questi libri passano poi attraverso le collezioni dei conventi, perché alla fine i conventi erano il luogo dove si potevano raccogliere dei patrimoni anche così numerosi. E come arrivano al Liceo Classico? Arrivano proprio nell'epoca delle soppressioni napoleoniche. Quando il Liceo Classico viene istituito, contemporaneamente quasi, vengono soppressi gli ordini religiosi, gli ordini monastici, e tra questi anche i Domenicani che avevano conservato questi patrimoni. Il Liceo Classico viene istituito proprio in una scuola Domenicana soppressa e quindi eredita questi volumi antichi, che oggi fanno parte del suo patrimonio come l'Archivio Storico, d'altra parte, che è l'altra metà del cuore antico di questo Liceo, che conserva tutti i registri degli iscritti a questa scuola fin dai primi anni dell'età post-unitaria, ad oggi. Vi starete chiedendo sicuramente che senso ha avvicinare anche i giovani ai supporti classici? Ebbene, la risposta ce la dà sicuramente Francesco Petrarca, il quale recita «Le opere del passato sono come i fiori, da cui le api traggono il nettare per fare il miele». Anche perché non possiamo mai prescindere dalle fondamenta per costruire qualcosa di importante, come giustamente dice Hugo, «Fate come gli alberi, cambiate le foglie, ma conservate le radici». Nel salutarvi, voglio ringraziare in modo particolare Adam e Malika Okiat che hanno registrato questo video, ponendo così la giusta attenzione ad un luogo prezioso di questo Liceo che è la nostra biblioteca. Però vi aspetto, eh, perché, come dice Rita Levi Montalcini, nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla tua porta. Ciao!